Parliamo del centro di riabilitazione visiva di Vercelli, all'interno ovviamente dell'argomento che è stato presentato oggi, la settimana mondiale del glaucoma. A Vercelli come intervenite e cosa può fare questo centro? Il centro può fare molto, come dicevo prima, soprattutto negli aspetti della prevenzione come aveva illustrato bene anche il dottor Mazzone con le attività che noi facciamo sempre in collaborazione con l'Unione Italiana Cecchi, soprattutto perché bisogna tenere conto che il centro è stato voluto dalla sezione provinciale dell'Unione Italiana Cecchi di Vercelli, che è la sede madre entro la quale si lavora. Sul campo della prevenzione ci sono questi due aspetti molto importanti che sono quelle per le visite presso le scuole, che sono anni che noi continuiamo a farle periodicamente e poi le visite che abbiamo attivato con questi incontri i mensili. L'ultimo giovedì del mese basta telefonare e si prenotano le visite per un controllo del tono dell'occhio. Questa è la parte diciamo prioritaria, tra virgolette, ma il centro è nato anche e soprattutto per la riabilitazione, come suggerivo e come dicevo prima, che è un concetto molto diverso e che molte persone hanno un'idea vaga di cosa significa la riabilitazione, che non è solo la riabilitazione visiva, ma è la riabilitazione sociale, il recupero dell'autonomia personale sotto tutti gli aspetti. Ci sono iniziative che coincidono con questa settimana, proprio per fare in modo che la gente prenda coscienza della necessità di fare prevenzione. Sì, noi cercheremo di distribuire il materiale che l'Agenzia Internazionale della Prevenzione della Cercità, distribuiremo nel mercato, daremo in giro dei volantini, soprattutto per informare quello che noi come centro facciamo e soprattutto attraverso di voi, cercando di pubblicizzare il più possibile quelle che sono le nostre attività. Poi a livello regionale c'è tutta una serie di iniziative che ogni sezione attua, sempre in collaborazione con le sezioni provinciali dell'Unione di Sèche e la IAPB, dove si fanno delle visite con i camper, si fanno delle visite di altro tipo, si fanno incontri informativi. Ogni sezione poi si attiva secondo le proprie possibilità e secondo le proprie esigenze. Noi quest'anno ci siamo limitati a fare questo incontro in modo che credavamo fosse la cosa migliore pubblicizzare il tutto ed ecco che siamo qui e vi ringraziamo per questo. Grazie